Però Salvini, io la ringrazio per essere venuto qua da noi questa sera e le devo fare subito una battuta e anche una cosa un po' stupefacente. Lei dovrebbe essere il più grande alleato dei ponti, lei li ama i ponti? Sta rompendo le scatole da sei mesi su sto ponte, da tre anni sul ponte, gli unici ponti che non vanno bene sono quelli dei lavoratori. Ma ringrazio per la domanda e mi rivolgo direttamente a chi è a casa perché poi le tue sono considerazioni di carattere generale fondatissime. Ti aggiungo che fra ottobre e dicembre di questo 2023 sono già stati proclamati e fatti oppure sono stati annunciati 135 scioperi, di questi 135 scioperi 123 o il venerdì, o il lunedì o un prefestivo. Tutti hanno fatto le scuole superiori e il liceo, sai che quando volevi vigiare un giorno di scuola mettevi l'autogestione o il lunedì o il venerdì. Qua qual è il problema? Che venerdì prossimo ci sono italiani che hanno prenotato una visita medica, ci sono italiani che vorrebbero andare a scuola, all'università, che non abitano in centro a Milano a Roma e devono prendere la metropolitana, l'autobus, il treno pendolari. Ci sono 20 milioni di italiani, faccio il ministro dei trasporti, che ogni giorno usano i mezzi pubblici. E perché due sindacalisti di sinistra hanno deciso che venerdì prossimo si ferma il paese, questi 20 milioni di italiani, lavoratrici e lavoratori, che magari non hanno la Tesla elettrica per arrivare lo stesso in centro a Roma e a Milano a lavorare, perderebbero la visita prenotata, l'esame in ospedale. Per che cosa? Per, aggiungo io, una manifestazione, uno sciopero contro una manovra di bilancio che aumenta gli stipendi a 14 milioni di lavoratrici e lavoratori. Cioè, chi è a casa e guadagna fino a 35 mila euro all'anno, quindi la stragrande maggioranza degli operai, lavoratrici e lavoratori, l'anno prossimo avrai in media mille euro in più in busta paglia. Cosa fai? Fai uno sciopero contro l'aumento degli stipendi? Ecco, ho capito, però il diritto di sciopero è fatto proprio per danneggiare la popolazione, che si accorge così che c'è una rivendicazione. Sì, ma un'estrema minoranza di sinistra, che magari poi si candiderà col PD alle elezioni europee, come è capitato tant'altro in passato, non può negare il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto al lavoro a decine di milioni di italiani. Sì, parlano di sanità. In questa legge di bilancio c'è un investimento in sanità di 3 miliardi di euro in più rispetto al passato per tagliare le liste di attesa. Cosa fai? Uno sciopero per protestare contro l'investimento maggiore della storia della Repubblica sulla sanità. Le pensioni. La CGL non fece sciopero quando la Fornero approvò la sua legge. Adesso che mattone dopo mattone stiamo smontando la legge Fornero, fanno sciopero. Allora le faccio una domanda. Io ovviamente non cancellerò il diritto allo sciopero, è previsto dalla Costituzione, però scioperare 24 ore significa, attenzione, non fermare solo il tagli al venerdì, perché per fermare un treno, un aereo, una metropolitana devi cominciare prima e finire dopo. Quindi sarebbe uno sciopero che dura un giorno e mezzo. Ecco, io dirò ai signori che peraltro se ne stanno fregando anche non di Salvini. Uno dice Salvini e Porro. E cosa si stanno fregando? E della Commissione di Garanzia degli Sciopero, che è una realtà apolitica, apartitica, che dice non gli hanno detto non fate lo sciopero. Gli hanno detto invece di fare 24 ore, fanne 8, fanne 4, così tu eserciti il tuo diritto di sciopero, ma non rovini un'intera giornata a 20 milioni italiani. Se fosse il dato di mercoledì sarebbe cambiato per lei, perché guarda, l'autority non ha parlato di fine settimana, ha detto che questo non può essere uno sciopero generale. Uno può scioperare il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il martedì o il sabato, quando vuole. È chiaro che se il 90% degli scioperi sono prima o dopo il fine settimana, evidentemente è un motivo deciso. Detto questo, io garantisco il diritto allo sciopero che è previsto dalla Costituzione per chiunque, anzi al mio ministero, stiamo affrontando tante vertenze, Trenitalia, Italo, i porti, gli aeroporti, perché la sicurezza sul lavoro è sacra. Però non fermare tutta Italia, non so se Landini ci sta guardando, non fermare l'Italia in un momento così delicato economicamente per tante famiglie per un giorno intero. Perché magari per una famiglia perdere quella giornata di lavoro può essere devastante. Quindi fermati, tre, quattro, cinque ore, esercita il tuo diritto alla protesta, ma non puoi tenere in ostaggio un intero paese. Il segretario del PD ha detto che si vedono i primi frutti di quello che è l'idea del premierato. Ma cosa c'entra una fava? Ma cosa c'entra con il premierato? Gli italiani hanno votato questo governo, l'elezione diretta del Presidente in Consiglio darà più stabilità, l'autonomia darà più manovra e spazio ed efficienza alle regioni, ma cosa c'entra con lo sciopero di venerdì? Già venerdì 17, che per chi ci crede non è il massimo della vita, però impedire di andare a farsi curare, visitare o medicare in ospedale, impedire di andare a scuola a milioni di ragazzi. Ma è fatto apposta lo sciopero per impedire a queste persone di esercitare la loro vita quotidiana? Lo fai per qualche ora, non giorno e notte, lo fai per qualche ora e soprattutto mi spieghi perché. Al di là di questo tu hai capito perché c'è lo sciopero? Loro sostengono. A parte che gli sta sulle balle Salvini e il governo di Centro, perfetto. E tu blocchi 20 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia? L'ultimo generale l'hanno fatto anche contro Draghi, alla finanziaria di Draghi, ogni finanziaria più o meno c'è uno sciopero. Però questo giustamente, tu l'hai ricordato, l'hanno preannunciato prima della finanziaria. Cioè in finanziaria avremmo potuto dare miliardi di euro a tutti, Landini avrebbe fatto lo sciopero. Oggi Banca Italia dice che, Banca Italia, non lei, va in audizione e dice che tre famiglie su quattro erano 600 euro in più e c'è un aumento per i dipendenti pubblici del 5,3%. Lo dice Banca Italia, non lo sta dicendo lei. Però insomma io non voglio entrare nel merito. Detto questo, è chiaro che la CGL si sostituisce a un PD che non esiste. Ha tutto il diritto di farlo. E la CISL, lei se l'è chiesto perché un sindacato non fa parte dei tre in genere, viaggiavano tutti e tre insieme. Non c'è la CISL, non c'è l'UGL, perché pur essendo critica quando è giusto nei confronti del governo, la CISL ad esempio sta portando avanti una battaglia, secondo me, di civiltà che io ho firmato perché le lavoratrici e i lavoratori partecipino alle amministrazioni delle loro aziende, come accade in altri paesi europei. Quindi c'è modo e modo di fare sindacato. Io sono un liberale, siamo in democrazia, ognuno fa quello che vuole. Però puoi fare sindacato dicendo di no a prescindere. Cioè io sto sbloccando tanti cantieri fermi in Italia, strade, autostrade, dighe, ponti, aeroporti. Non mi dica tutti che ci credi. No, no, no. E un sindacato, se io apro un cantiere che dà lavoro a mille operai, tendenzialmente dice bene. Ebbene, quindi la CISL, l'UGL e altri sindacati sono a favore delle infrastrutture. La CGL, qualunque cosa io faccia la mattina quando mi alzo, dice di no. Ma lo vede anche al Ministero le cose che... Sempre. Ma lei sta dicendo che sui suoi cantieri i locali sanno bene che porta lavoro quella roba lì. Ma un'opera come il Ponte Sottretto, che porta 50.000 posti di lavoro, perché al sì della stragrande maggioranza dei commercianti, degli imprenditori, dei sindacati e al no della CGL? Perché le dicono, facciamo... Io l'ho sentito mille volte, ti dicono, fai le altre infrastrutture... Ma ne stiamo facendo a centinaia di infrastrutture in Lombardia, nel Lazio, in Sicilia, in Calabria. Dopo 50 anni, se voglia andare il diritto a milioni di siciliani di essere collegati... Non parla del Ponte dello Stretto, perché un sindacalista parla del Ponte dello Stretto e non della chiusura delle fabbriche. Questo è il tema, scusi. Oltretutto, un ponte che ti porta lavoro in due terre affamate di lavoro. Detto questo, io domani mattina sono in ufficio, presto, a proposito. Se la critica di questi due sindacalisti di sinistra è che Salvini dovrebbe andare a lavorare perché non fa nulla, posso star simpatico, antipatico, ho fatto il Ministro dell'Interno. E sull'immigrazione mi sembra di aver dimostrato che volerà potere. Sto facendo il Ministro delle Infrastrutture e, ripeto, i numeri dicono che stiamo creando decine di migliaia di posti di lavoro. Ecco, se la critica è che Salvini è brutto, è grasso, è cattivo, non mi sta simpatico, non fa una mazza... E non lavora. Dicono che lei non ha mai lavorato in vita sua. Questa è una critica che le si fa. E sai, fare... Chi è che l'ha fatta? E oggi era... Un tizio della Will. A Bombardieri no. Di cui non mi ricordo il cognome. No, 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 è il segretario, no, no, è una persona autorevole. Che critica è? Cosa vuol dire? Uno sta facendo. Mi può dire Salvini, che si occupa dell'alta velocità Brescia-Vicenza o Napoli-Bari, non mi piace come sta lavorando, ma non lo sta lavorando. Alle sette che fa Doniattina? Non ho capito che ci stava raccontando. No, sto andando in ufficio. Se i sindacati questo prevede la forma, perché ai cittadini interessa, al di là di quello che stiamo dicendo, ma venerdì io lo prendo il treno, l'autobus, l'aereo, la metropolitana, sì o no? Allora, domani i sindacati hanno tempo per tornare su una posizione di buonsenso e possono dire o scioperiamo solo per alcune ore, per non danneggiare tutti, oppure lo rinviamo, lo sciopero. Se domani i sindacati dicono, me ne frego delle leggi, me ne frego della Commissione di Garanzia, me ne frego di Salvini e faccio tutto quello che voglio per 24 ore, la legge mi dà il potere di intervenire e ridurre l'orario. Questo è il precetto. Questo è qualcosa che la legge mi permette di fare. Mi sembra che abbiano già detto che loro continuano sulla loro strada, quindi lei domani li precetterà se continuano sulla loro strada. Se rifiutassero di sedersi a un tavolo e fare quello che le istituzioni gli stanno chiedendo di fare, ripeto, danneggiando il 90% dei lavoratori italiani, io non sto a guardare che un venerdì di lavoro due sindacalisti di sinistra per farsi belli bloccano, fermano e paralizzano l'Italia. Ma buon partire non è di sinistra, la UIL non è di sinistra, su, non è di sinistra la UIL, è un sindacato moderato. Era. Non l'è più. Era. Imperfetto. Le faccio vedere una clip di Grillo, lo conosce Grillo? Grillo Beppe. Sì, le faccio vedere una piccola clip. Pronti. Buongiorno, è un avvocato, è presidente della seconda commissione giustizia, è una senatrice della Lega, che fa dei comizietti davanti ai tribunali dove si fa una causa che magari è a porte chiuse, delicata. È inopportuna. È inopportuna, ha detto Grillo, tra l'altro è stato uno show in cui ha parlato di tante cose, però sulla sua senatrice è responsabile anche della giustizia, immagino, del partito, no? L'avvocato Buongiorno è in tribunale a Tempio Pausania a difendere i diritti e la dignità di una ragazza stuprata. Cioè l'accusa a carico dei ragazzi che sono in quel tribunale, poi io, in una prova contraria, ognuno è innocente. Giulia Buongiorno, derisa da quel tizio, non fa comizietti, sta difendendo una ragazza che ha denunciato di essere stata ripetutamente, per ora, stuprata da numerosi ragazzi. Quindi si sciacquasse la bocca, non per rispetto della Lega, di Giulia Buongiorno e di Matteo Salvini, ma di una ragazza che, come, ahimè, migliaia di donne in Italia, hanno denunciato di aver sofferto quello che è, probabilmente, uno dei crimini più orrendi, paragonabile all'omicidio. Perché uno stupro è qualcosa che ti porti dentro per sempre. Quindi Grillo faccia il comico su altro, faccia fatturi su altro, però quando c'è un avvocato che difende le donne, perché io ricordo che Giulia Buongiorno è l'autrice del Codice Rosso portato avanti dalla Lega, che oggi elegge, che prevede che una donna che fa una denuncia di molestie o violenze debba essere convocata entro tre giorni dal giudice. Quindi, fra Grillo e Giulia Buongiorno, fortunatamente c'è un universo e mi spiace per lui. E mi spiace per lui perché un avvocato che difende una ragazza violata merita solo rispetto. Mi dica, per favore, quando ha saputo dell'accordo in Albania? Perché a lei ha letto i giornali che dicevano... Eh, ride, però io faccio un giornalista e glielo chiedo, perché io ho letto sui giornali che lei non era corrente di questo accordo e che si è anche un po' seccato, insieme al suo collega Tajani. Sui giornali si leggono tante ciocchezze o tanti desideri, qualcuno ci vorrebbe litigiosi, no? Che una piccola parte degli immigrati che arrivano e arriveranno clandestinamente in Italia, spero sempre di meno e farò e faremo di tutto perché siano sempre di meno, invece di stare in Italia a spese degli italiani, possano essere ospitati dignitosamente da alcune strutture, ora in Albania, ma io spero anche in tanti altri paesi extraeuropei, perché l'Italia non può essere il punto di approdo di permanenza e di mantenimento degli immigrati in mezzo mondo. Quindi lo sapeva e lo condivide? Assolutamente sì, è un ottimo principio che spero venga esteso anche ad altre realtà oltre all'Albania e ringrazio gli amici albanesi per questa opportunità. Però Piantedosi non lo sapeva il suo ministro. Poi un conto è una buona idea trasformata in fatti. Poi adesso, ovviamente, deciso il principio che condivido al 100%, bisogna mettere la terra. Quando noi progettiamo un'alta velocità, una piazza, una caserma, va bene l'idea, scegli la città, trovi i soldi, metti la norma e poi ci vuole l'ingegnere che te la progetta. Quindi il principio va benissimo perché non tutti gli immigrati che arrivano in Italia possono e debbano stare in Italia, ce ne sono anche troppi. Le voglio fare questa domanda però solo se lei mi promette di non fare una lista della spesa. Me lo promette? No, non me lo faccia. Le voglio chiedere... Se la domanda è sulle vittorie del Milan, la lista della spesa finisce presto. L'infrastruttura di cui lei è oggi, che si è un po' realizzata, non il ponte che bisogna lavorarci molto, l'infrastruttura che lei veramente ha sbloccato e di cui, voglio dire, è contento di averlo fatto? Posso dire alcune cose di cui si parla poco e mai? Le dighe. Alcune dighe che erano ferme da 40 anni o attendevano di essere finanziate o progettate da 100 anni. Perché poi, quando l'acqua, ahimè, fa i disastri in Emilia, in Romagna e in Toscana, il problema non è solo il cambiamento climatico, la sfortuna e le previsioni del tempo. Noi raccogliamo solo l'11% dell'acqua piovana. Se non fai le dighe per trattenere l'acqua quando è troppa e lasciarla uscire per darle agli agricoltori quando non c'è, non vai lontano. Ecco, avere sbloccato alcune dighe che erano ferme da 20, 30, 40 anni è qualcosa che in questo anno mi ha dato grande soddisfazione. Grazie, grazie. Grazie, ministro Salvini. Io voglio continuare senza di lei, perché ho già capito quello che pensa di Grillo, però voglio continuare ancora a parlare di Grillo. Lo farò con altri interlocutori. Saluto Salvini e faccio vedere subito Grillo su Conte, perché è davvero interessante. Grazie, ministro. Grazie.